Evla snoba a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con una voce un po' strana, ma dettagli ci vediamo dopo quando esco di casa, aspettate. Evla snoba a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi veramente per l'intro di prima, ma volevo fare un intro, pensavo di uscire già di casa. Comunque adesso sono ancora qui in casa. E niente, ieri sera non ho quasi dormito perché sapete che tossendo sempre è un macello. Comunque niente, come è stato? Spero che voi siete bene. E niente, sto per uscire di casa, poi finalmente adesso vado a mettere un po' di cose in ordine. Comunque adesso sono già quasi le sette, sono quasi in ritardo a scuola, ma comunque dettagli. Ma non lo so che ore siano, però dettagli, adesso esco veramente di casa. Questo è il vlog del diciassettesimo giorno di scuola. Se non sbaglio. Sì, ma ieri l'ho caricato, il sedicesimo giorno. Sì, esatto, oggi è il diciassettesimo. Ma oggi è il 5 ottobre. Wow. Cavolo, nemmeno di due mesi. Cioè, meno di due mesi compio gli anni e sono disagiata. Nel senso, mi mette a disagio avere 16 anni, sinceramente. Lo so che per voi sarà una stupidata. No. E nulla. Voglio soltanto dirvi che appunto sono... Sono felice di stare con voi e di andare. Adesso finalmente sto uscendo di casa e... Corri. No, adesso non posso correre perché... Dovresti sapere che io non corro durante la... Tanto compreremo, dora in poi, una spray per un mal di gola. Perché voglio dire, c'è... Ho un mal di gola assurdo, però vado sempre a scuola comunque. E... Spero che succeda di nuovo qualcosa di particolare. Cioè, tipo ieri, ho ricevuto veramente delle sorprese bellissime. E... Poi se vi succede qualcosa, vi aggiornerò poi. E... Niente, ci vediamo dopo. Siamo appena partiti, ragazzi, sull'autobus, come sempre. E mi sa che non potrò vloggare oggi sul tram 9 perché dovreste sapere che... Sarò... Vabbè. Dovreste sapere che sono tipo... Una che... Tipo... Cioè... Se c'è gente che mi guarda un po' male, però... Vabbè, dettaglio. Scusate veramente per la voce, ma... Devo parlare anche un po' piano. E... E niente, ci vediamo dopo. Ciao. Sono arrivata a casa, ragazzi, finalmente. E voglio dirvi che sono molto contenta del liceo. Scusate veramente, ma io non ho una voce adatta perché per ora non ho niente di... Di speciale da raccontarvi. Per fortuna non è successo niente nel senso che... Di bello. E... Ma... E niente, adesso... Appoggio lo zaino. E voglio dirvi che tutto ha iniziato ad avere tipo mal di gola ieri sera. Non so se avete visto il video Ask Me. Quindi niente, scusate veramente per la voce, ma io non ho abbastanza voce per parlare. Quindi credo che non metterò nemmeno la musica, perché non ho... Un... Bel... Non ho una bella voce. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore mettete il like e iscrivete al canale. Attivate la campanellina per essere sempre aggiornati nei miei prossimi e prossimissimi altri video che caricherò. E io... Vi mando... Un... Grossissimo bacio e al prossimo video! Ciao! Un saluto con questa voce!